Grazie a tutti. Del gruppo carbonilico e là dove è presente, in quei composti dove è presente, come abbiamo parlato delle aldeidi, abbiamo parlato dei chetoni e in particolare abbiamo visto la nomenclatura IUPAC e le caratteristiche e vi avevo accennato che in questa lezione avremmo trattato le reazioni caratteristiche appunto di queste classi di composti organici e appunto di aldeidi e di chetoni. Non sono soltanto l'ora ad avere il gruppo carbonilico come vi ho detto anche nella precedente lezione, però qui parleremo di quelle che sono le reazioni che vedono coinvolte le aldeidi e i chetoni. Quindi mi raccomando nel modo più assoluto, prima di seguire questa lezione, seguite la precedente perché se ho già detto un bel po' di roba, quindi se mi seguite questa lezione di punto in bianco io per voi, qui posso anche parlare arabo. Allora, ho accennato che cosa significa reazione di addizione nucleofila al gruppo carbonilico, ho detto come mai un nucleofilo può attaccare un gruppo carbonilico, appunto vi ho spiegato l'esistenza di due forme limite di risonanza, di due formule limite di risonanza e così via dicendo. Quindi do per scontato che voi abbiate compreso tutti questi concetti. Allora, essenzialmente l'addizione nucleofila al gruppo carbonilico da parte appunto di un nucleofilo che ha appunto un doppietto elettronico che può dare, può donare, può avvenire in due modi diversi. Ci sono dei casi, vediamo quali sono questi stadi di reazione di addizione nucleofila dell'anione cianuro al gruppo carbonilico. Allora, abbiamo preso un aldeide, come aldeide abbiamo preso il metanale, è l'aldeide più semplice, questa è la formula di struttura della nostra forma aldeide, si chiama anche così forma aldeide. Questa però la forma aldeide, attenzione, non è la nomenclatura IUPAC, la nomenclatura IUPAC, il nome IUPAC è metanale, la formaldeide è un, o anche formalina, sono nomi diciamo tradizionali comunemente utilizzati, molto famosi, quindi la potete anche chiamare così. Ma ricordatevi, vi ho insegnato la nomenclatura IUPAC delle aldeide, quindi questa si chiama metanale e la riconoscete. Allora, il primo stadio lo si può spiegare, naturalmente, grazie alla... Quindi, in linee generali, le cianidrine hanno questa struttura, questa tipica struttura qui, vedete l'atomo di carbonio è ibridato sp3, la struttura è tetraedrica, i gruppi R dipendono, naturalmente, dall'aldeide o dal chetone che mettiamo a reagire con il nostro nucleofilo, ione cianuro, e vedete che sono caratterizzati dalla presenza di un gruppo ossidrile legato al carbonio, in definitiva, e dall'altra parte l'atomo di carbonio istauro, legava il covalente semplice sigma con il carbonio di un... di quello che era, appunto, l'anione cianuro, derivato dalla dissociazione del cianuro di sodio di un sale, in genere di un sale a base di cianuro, in genere si utilizza il cianuro di sodio. Quindi, vedete, appunto, qui quello che era l'anione cianuro e che è stato addizionato. Queste sono le parti sempre presenti e poi i R, come vi ho già detto, sono le parti presenti, Altra importante reazione di addizione nucleofila da parte, appunto, di un nucleofilo al gruppo carbonilico è la reazione di idratazione, quindi è la reazione di addizione nucleofila di acqua al gruppo carbonilico di un aldeide oppure di un chetone. Come vi ho detto, aldeide e chetone hanno sempre, comunque, il gruppo carbonilico, quindi le reazioni sono molto simili e essenzialmente a reagire potete mettere sia un aldeide che un chetone. Anche gli alcoli possono agire da nucleofili e attaccare il gruppo carbonilico di aldeidi e chetoni. È un'importante reazione, appunto, la reazione di addizione nucleofila di alcoli al gruppo carbonilico, appunto, di aldeide e chetoni. Questa è una reazione acido-catalizzata e porta alla formazione, prima, di composti più instabili che prendono il nome di emiacetali o semiacetali e poi, infine, i prodotti finali sono gli acetali, che poi vedremo cosa sono, qual è la formula di struttura generale di un acetale, ma, prima, naturalmente, vorrei farvi comprendere come si arriva a questo acetale. Quindi, essenzialmente, è una reazione di addizione nucleofila da parte di un alcol nei confronti del gruppo carbonilico di un aldeide o di un chetone. Aggiungiamo un acido in modo tale che la reazione avvenga più velocemente. Allora, cerchiamo di descrivere le tappe. Primo stadio. Abbiamo qui una nostra aldeide. Ed ecco che nel terzo stadio finalmente agisce l'alcol. Che cosa succede? Il carbocatione subisce un attacco nucleofilo da parte, vedete, dell'ossigeno del nostro alcol, che mette in condivisione un doppietto elettronico, va a legarsi al carbocatione, lo stabilizza, e però, in questo modo, questa volta sarà l'ossigeno ad avere una carica positiva, come vedete nel prodotto qui. E quindi, nel quarto stadio, che cosa succede? L'ossigeno deve stabilizzarsi. E, data la sua forte elettronegatività, è più che ovvio che vada a strappare un'alcol. Ecco, vedete qui, prendo quindi l'ammoniaca, se tolgo un atomo di idrogeno e aggiungo un gruppo astilico oppure arilico, uno solo, quindi rimangono due atomi di idrogeno, il doppietto elettronico non condiviso a livello dell'atomo d'azoto c'è sempre in ogni caso, allora in questo caso do origine a un'ammina primaria. Se invece tolgo due atomi di idrogeno dall'ammoniaca, grazie. Grazie.